Allora quindi vediamo un po' questo studio che sono veramente troppo interessato a scoprirlo perché se fosse così io sarei la persona probabilmente più aperta del mondo a livello romantico però scopriamolo, scopriamolo Allora Quindi Guardare entai rende più romanticamente aperti le rivelazioni di uno studio Una volta che si entra in contatto con il mondo degli anime è quasi inevitabile trovarsi di fronte agli entai E' cosa buona e giusta Si tratta essenzialmente di pornografia animata, media estremamente popolare per l'audience Avezza ai prodotti dell'animazione, specialmente se giapponese La sua diffusione nel mondo ha avuto un impatto non indifferente sulla concezione della sessualità dell'attrazione romantica e del pensiero di molte persone Secondo uno studio effettuato dallo psicologo Jonathan Park e altri membri del suo gruppo ci sarebbero alcune differenze da coloro che consumano entai e le persone invece fruiscono di altri tipi di pornografia o non ne guardano affatto Oddio Che esistano persone che non guardano pornografia Che non hanno mai... cioè, la vedo dura, ma comunque I dati ottenuti da questa ricerca sono stati pubblicati su Sexologist e svelano numerose informazioni interessanti su come i soggetti provino diversi livelli di attrazione, desiderio romantico e attaccamento a seconda si tratti di un personaggio di un anime o di un umano Beh, penso... Penso che sia normale, come cosa? Gli entai aprono la mente! Vabbè! I consumatori di pornografia sono stati divisi in tre gruppi Il primo fruiva di contenuti pornografici entai e raffiguranti degli umani Il secondo, pornografia reale Il terzo non consumava alcun tipo di materiale Lo studio è stato effettuato su 200 partecipanti di 21 anni Ha pure il mio target Tra di essi il 29% ha visto entai Il 38% ha consumato pornografia non entai Il 22% dice non aver fruito di alcun contenuto Sì! Proprio così Durante i test sono state presentate immagini di personaggi 2D Nuovi foto di persone reali Ok... Non sono stati mostrati cosplay per evitare la possibilità di influenzare il voto I partecipanti hanno così dovuto votare sull'attrattività e la familiarità che essi provano verso la persona o il personaggio Ok... Come prevedibile i consumatori di entai hanno ritenuto più attraenti le immagini di personaggi animi rispetto alle valutazioni effettuate dal gruppo non entai Vabbè Il desiderio di trovarsi in una relazione romantica con una persona reale Vabbè, più... Però... Perdonatemi Perdonatemi Ma... Cioè... Come dire? Hanno scelto due immagini un po' Diverse Tra la parte entai e la parte... Come dire... Reale Quindi... Non mi stupisco che alcune persone abbiano preferito l'immagine di sinistra Però... Nel senso... Quella di destra sembrano... Mi fa venire la depressione l'immagine a destra Ma cos'è? Cioè nel senso... Se devi fare un paragone ma farlo con due cose messe in una posizione simile Cioè... Ma veramente... Sembra che... Un funerale quella di destra Ma che cos'è? Vabbè E qui... Capito? Cioè guardate la differenza tra le due tipe Waifu e persona reale E... Cioè guardate Quello di sotto è perfetto A dir poco la stessa identica immagine Quella di sopra invece... Cioè ma sfido chiunque a scegliere quella di destra tra un po' Ma non lo so Boh... Fatelo meglio sto studio Per l'amor del cielo Il ricercatore giunse a questa conclusione Il punteggio di attrattività e desiderio romantico verso persone reali Non è stato significativamente differente tra i tre gruppi Dunque sviluppare una maggiore attrazione e desiderio romantico verso i personaggi animati Sarebbe una caratteristica unica degli entai Non applicabile verso la pornografia reale Non l'ho capita questa cosa Sviluppare un'attrazione di serio verso i personaggi sarebbe una caratteristica unica degli entai Pronteggio e desiderio verso persone reali non è stato differente Analizzando se i consumatori di entai fossero più motivati nel vedere entai È stato osservato come per loro non ci fosse significativi Eh ma infatti pure... Cioè nel senso Penso che posso parlare a nome di quasi tutti Io non trovo significative differenze Cioè in base a come mi va Se un giorno mi va di vedere un porno normale Mi vedo un porno normale Se mi va di vedere un entai Vedo un entai Ovviamente sono cose diverse Non dico che siano la stessa identica roba Però In base a come mi gira Cioè uno volendo si può Segare pure su Non lo so Un sasso Insomma Poco cambia Nel risultato di ottenuti si scopre che Che consuma entai non differisce da coloro che Fluiscono di altri tipi di pornografia Le particolarità di coloro che guardano entai E le capacità di percepire i personaggi In modo più fisico e romantico Resulterebbero come più romanticamente aperti Vabbè raga Siamo tutti più romanticamente aperti Vediamola come una cosa positiva Guarda l'entai rende romanticamente aperti E io che ho visto Euphoria e Shoujo Ramune Sono un... Sono un completo gentleman E... Effettivamente è un'ottima domanda questa Andre È veramente un'ottima domanda Sarebbe da... Da approfondire Cioè il reale è apprezzato da tutti in ugual modo Ma il 2D è apprezzato solo dai consumentai Ah ok È in quel senso Ok Ma vabbè Ovviamente ha senso Sfido chiunque che non ha mai visto anime O che non vede Cose di questo tipo A provare anche un minimo di attrazione Verso un'immagine di questo tipo Ovviamente risulterebbe strano Ovviamente Sta di fatto che... Niente Un articolo interessante Non pensavo che ci fossero studi di questo tipo Considerate comunque che Penso sia normalissimo Che se uno inizia a vedere anime A livello proprio Come dire Importante Considerando anche che molto spesso Dentro gli anime stessi Si trovano Scene ecci Di sesso Allusioni sessuali Cose di questo tipo È perfettamente normale Che se ti vedi gli anime Ti fai vedere gli entai Se non ti li sei mai visti È raro che capiti Anche se comunque Conosco persone che magari Se li so visti Anche se non ti viene frega Proprio un cazzo degli anime Ne ne vedono Quindi dipende